Con una spawra di 5.444 in questi ultimi 5 giorni siamo riusciti a generare oltre... Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di aggiornamento del nostro portafoglio simulazione. Con il video di oggi volevo aggiornarvi molto velocemente della mia operatività, in particolare il perché ho investito 20.000 euro in Mobox e quanto guadagniamo di rendita con il nostro capitale attuale. Prima di iniziare ragazzi, se avete piacere a guardare altri video come questo, allora vi invito ad iscrivervi al canale attivando la campanellina così da rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che farò e di lasciare un mi piace per supportare il mio lavoro. Grazie mille ragazzi! Inoltre vi invito anche ad entrare a far parte della community Telegram del canale, vi lascio il link giù in descrizione, di seguirmi su Instagram per rimanere sempre aggiornati di quelli che sono i miei movimenti sia in ambito finanziario che personale. Tra l'altro attualmente mi trovo nuovamente a Bananalandia e in realtà un po' per caso i miei piani erano completamente diversi. Su Instagram comunque vi spiego un po' il perché sono qui. Nello scorso video aggiornamento il nostro portafoglio valeva 111.367 euro. Oggi dopo appena una decina-quindicina di giorni vale 114.552 euro, incrementando il suo valore di circa 3.000 euro. In quanto ad allocazione, la strategia che ho deciso di adottare comporta un'allocazione al 50% in stablecoin e al 50% in Bitcoin ed Ether. Con quest'ultimo importante riaduto da parte di Bitcoin, le percentuali che avevo inizialmente considerato hanno iniziato a divergere. Così non soltanto per questa motivazione ma anche per un'altra motivazione di cui adesso vi parlo, ho deciso di bilanciare il portafoglio riequilibrando le percentuali, vendendo il 28 marzo 0.1 Bitcoin al prezzo di 47.400 dollari circa. Operazione che tra l'altro vi ho anche condiviso live sul gruppo Telegram che per l'appunto vi ho lasciato giù in descrizione. Così ho ridotto di un 5% le nostre posizioni su Bitcoin, riportando l'allocazione al 50% circa. Al di là delle divergenze dell'allocazione, ragazzi, che potevo anche lasciar correre in fin dei conti, ho preferito bilanciare fin da subito poiché ci trovavamo in una condizione piuttosto estesa. Difatti se notate con il 28 marzo eravamo a 7 candele verdi consecutive. Inoltre non mi convince, non mi convinceva molto la situazione nella quale ci trovavamo, così ho preferito operare fin da subito. Se vi stesse chiedendo da dove sto guardando il grafico, ragazzi, questo è il grafico di TradingView nella versione Pro, messo a disposizione gratuitamente da Tani. Considerate che se lo volessimo acquistare ci costerebbe da 200 ai 250 dollari all'anno, mentre in questo caso possiamo usufruirne gratuitamente per merito di Atani. Atani è un servizio che vi consiglio di provare, il quale ci dà la possibilità di poter operare da più exchange in un'unica piattaforma. Provatelo ragazzi, vi lascio il link giù in descrizione. Detto ciò, passiamo al grande cambiamento apportato nello scorso video, ovvero Mobox. Prima di parlarvi del perché e di quale strategia ho intenzione di seguire, devo fare una precisazione molto importante. L'investimento di 20.000 euro è da considerarsi sul mio portafoglio reale e non su quello simulazione. Come sapete, l'idea di questo portafoglio è replicare in percentuale le operazioni che compio sul mio portafoglio reale, eccetto le speculazioni. Perciò quei 20.000 euro non dovete considerarli su questo portafoglio, ma su quello reale, che per privacy e soprattutto sicurezza non mostro, ma se avete visto questo video, bene o male, conoscerete. Considerate che 20.000 euro corrispondono all'incirca a un 10% del mio portafoglio reale, perciò in questo caso nel portafoglio simulazione dovremo considerare un investimento pari al 10% dell'intero portafoglio, quindi di 10.000 euro e non di 20.000. Perciò ogni calcolo che faremo su questo portafoglio va dimezzato dal 50% dell'effettiva posizione. Fatta questa precisazione, come ben sapete, Mobox è una piattaforma che conosco da circa 7-8 mesi. Di fatto il mio primo video risale ad agosto 2021. All'epoca decisi di espormi unicamente sul token anziché acquistare i Momo per due motivazioni. Principalmente poiché se avessi acquistato all'epoca i Momo, per rientrare dall'investimento ci avrei messo all'incirca 8-9 mesi, tempistiche che andavano oltre la visione che mi ero fatto sul mercato. Perciò così facendo non avrei potuto trarre vantaggio dalla salita del prezzo del token e prendere profitto prima dell'inizio del bear market. La seconda motivazione era il costo dei Momo. All'epoca acquistare dei Momo costava di più rispetto ad oggi, anche se è difficile valutarlo poiché il market e la piattaforma si sono evoluti moltissimo nel tempo. A parte ciò è logico pensare che in una fase di bull market, essendo il mercato sopravvalutato, lo erano di conseguenza anche i Momo. Con il seno del poi questo ragionamento si è rivelato valido e penso che essermi esposto all'epoca unicamente sul token mi abbia portato più vantaggi rispetto a quelli che avrei potuto ottenere con i Momo. Anche perché d'agosto il prezzo del token, che si aggirava intorno a 1-2 dollari, è aumentato notevolmente creando una piccola bolla suscitata dall'annuncio di Binance, raggiungendo un all-time high di circa 16 dollari. Ora, a distanza di alcuni mesi, cambiate alcune condizioni che prima mi spingevano ad acquistare il token, anziché i Momo, ho acquistato 20.000 euro in Momo. Ma perché? Innanzitutto, il perché non ho acquistato il token è molto semplice e le varie motivazioni le trovate in questo video nel quale vi spiego quali sono i rischi nel detenere altcoin in BR Market. Avrei potuto fare un'eccezione? Assolutamente no! Il token Enbox non è differente da altri token. L'unica alt per cui fare un'eccezione in una fase di BR Market è Ether e le motivazioni le trovate sempre in questo video. Quindi, ho preferito acquistare i Momo per diverse motivazioni. La prima è, senz'altro, la rendita che offrono. Considerate che per ogni 1000 di Ash Power, attualmente, riceviamo 3 Enbox al giorno, che al prezzo attuale di 3,60 dollari equivale a 10,80 dollari al giorno. Considerando che con un investimento di 20.000 dollari circa, siamo riusciti ad ottenere 5.444 di Ash Power, significa che nel nostro caso, di media, abbiamo speso 3.700 dollari per ottenere 1000 di Ash. Quindi, una rendita pari al 98,55% di interesse annuo, l'8,21% di interesse mensile e lo 0,27% di interesse giornaliero. Mi rendo conto che questi numeri sono spaventosi, da un lato, però tenete conto di alcuni fattori e variabili che possono modificare notevolmente il risultato di questi dati, come il valore del token, il capitale medio per 1000 di Ash Power, che è piuttosto soggettivo, dipende appunto dalle occasioni che riuscite a trovare nel market, e la distribuzione del token. Quindi, ragazzi, questa è la prima motivazione, ottenere una rendita superiore alla media, con un rischio comunque ponderato. La seconda motivazione ha un fine di diversificazione, e non mi riferisco al diversificare tra le varie piattaforme DeFi, ma ad una diversificazione dalle stablecoin. Può sembrare inusuale come ragionamento, ma acquistare Momo ed ottenere una rendita dagli NFT mi consente di diversificare ulteriormente dalle stablecoin. E' chiaro che come ci siano dei rischi sulle stablecoin, ce ne siano di differenti tipologie sugli NFT. Al di là dei rischi sistematici, il primo che verrebbe in mente, pensando all'NFT, è la possibile svalutazione di quest'ultimo, quindi dei Momo. Vi dirò, in realtà questo è il rischio minore, poiché non ho acquistato i Momo con il fine ultimo di rivendere ad un prezzo più alto, ma con il fine principale di ottenerci una rendita, la quale mi dovrebbe permettere di recuperare quel capitale dedicato all'acquisto dei Momo. Perché il recuperare lo metto tra virgolette? Perché non si tratta di dover andare a recuperare dei soldi che noi abbiamo perso, perché quei Momo possiamo tranquillamente rivenderli, potenzialmente a un prezzo più basso, potenzialmente però anche ad un prezzo più alto, e riottenere quel capitale che noi abbiamo dedicato. Perciò tutto ciò che noi guadagniamo di rendita è un qualcosa in più. E nel momento in cui noi riusciamo ad ottenere di rendita 20.000 dollari, non significa che siamo andati in break even, significa che abbiamo raddoppiato il nostro capitale in base a quanto poi varranno i Momo. Se ipotizziamo che varranno ancora 20.000 dollari, e noi li riusciamo a vendere a 20.000 dollari nel market, avendo appunto di rendita ottenuto 20.000 dollari, in questo caso avremo raddoppiato il nostro capitale. Quindi non si tratta di andare in break even, ma proprio di raddoppiare il capitale. In realtà il reale problema nascerebbe nel momento in cui il prezzo del token e il valore dei Momo scendesse eccessivamente a tal punto da non offrirmi più una rendita così conveniente. Ed è qui che viene il terzo punto. Provando a considerare un meno 70% dal livello attuale, il token varrebbe all'incirca 1.20 dollari. Calcolando l'interesse otteniamo il risultato del 32.85% che corrisponde all'interesse annuo. Quindi un interesse comunque importante, nonostante se stiamo considerando uno scenario piuttosto negativo, ma assolutamente plausibile. Come quarta motivazione ho considerato i fondamentali del progetto. Il team l'essere supportati sia a livello finanziario che pubblicitario da Binance, l'avere a stretto contatto una persona con il team che ci aggiorna quasi in anticipo sugli sviluppi del progetto, oltre ad essere molto attivo sui social, che può sembrare una sciocchetta ragazzi, ma vi assicuro che non lo è affatto, e mi sto riferendo al grande lavoro svolto da Dr. Farmer. Cioè, per farvi un esempio, ieri avevo iniziato una live alle 10 del mattino e alle 8 di sera era ancora in live. Io davvero non so come lui riesca, ma quando ti prende così tanto la passione quasi non senti la stanchetta. Insomma, sta facendo davvero un lavoro disumano e non posso che fargli complimenti e non possiamo noi che supportarlo. E infine ho considerato anche il settore in cui opera, ovvero il metaverso con il Momoverse, gli NFT con i Momo, e diciamo una piattaforma GameFi, quindi anche del gaming, con le varie piattaforme di gioco. Quindi tre dei settori più in voga nell'ultimo periodo e che probabilmente faranno parte del trend futuro, in particolare il metaverso. Quindi queste sono alcune delle principali motivazioni che mi hanno portato a prendere questa decisione. Ora, un'altra domanda che sorge spontanea è ma detenendo i Momo non ottieni comunque il token MBOX? Sì, ma in questa prima fase non è mia intenzione holdarlo. E adesso vi spiego anche qual è la strategia che ho deciso di adottare. Attualmente post halving con 5.444 di hash power guadagniamo 66 dollari giornalieri e ben 1.979 dollari al mese. La mia strategia è molto semplice. I token che generiamo giornalmente in questa prima fase, attenzione, tenderò a venderli quasi interamente per acquistare inizialmente stablecoin che potenzialmente potremo mettere a rendita per ottenere un'altra rendita, un altro interesse, o tenere le ferme su un cold wallet in attesa che Bitcoin raggiunga i livelli al quale ho intenzione di accumularlo. Quindi, riassumendo, la rendita che ottengo dai Momo la utilizzerò come liquidità per fare un pack su Bitcoin ed Ether se i prezzi mi soddisfano o, in caso contrario, in stablecoin come liquidità pronta all'uso. In realtà ci sarebbe un'altra opzione che sto valutando molto attentamente e consiste nel fare compravendita dei Momo. Ho anche strutturato una semplice formula matematica per calcolare e valutare se un determinato Momo è più profittevole di un altro, il che mi aiuta a ricercare l'opportunità nel market. Insomma, lo sto valutando, magari se volete che vi condivida i miei pensieri e la formula che sto utilizzando ancora in test, però, attenzione, scrivetelo nei commenti, magari proviamo a ragionarci insieme e ci diamo anche una mano a vicenda. Insomma, potenzialmente potrei già condividervi questa cosa, però considerate che è in test e che la sto testando. In conclusione, ragazzi, creerò un wallet apposito per convogliarci tutta la rendita che otteniamo di Momo e vediamo in quanto tempo riusciamo a recuperare e superare i 20.000 dollari di investimento. Perciò, da questo video in poi, vi aggiernerò costantemente su come sta andando. Inoltre, considerate che da quando ho acquistato i Momo fino ad oggi, ho generato all'incirca più di 200 M-Box che equivalgono all'incirca dai 600 agli 800 dollari, perciò una media di 100-120 dollari al giorno che è davvero molto molto alta. Questo è chiaramente pre-halving, adesso post-halving stiamo generando dai 60 ai 70 dollari, che è comunque una rendita molto molto alta, considerando 60 dollari sono 1.800 dollari al mese, 70 dollari sono 2.100 dollari al mese. Ragazzi, è pazzesco come rendita, è veramente molto molto alta. Bene, ragazzi, io mi fermo qui poiché penso che il video già sia piuttosto lungo. Purtroppo non riesco a farli uscire più corti, so che me l'avete anche chiesto, perciò vi chiedo scusa per questo. E nulla, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così vi invito a lasciare un mi piace, un commento e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!